Tip, Simone, se sei tu, smettila o ti denuncio presto al caraggio. No! Però scusa, la segreteria, no, non puoi fare così il mio nome. Perché sbertarmi così con tutti? Non so che ho fatto una cazzata, ma quanto me la vuoi fare pagare? E un'altra cosa. Facebook ti oscura il profilo se pubblichi queste foto. Sono al limite del pornografico, Paola. Ma qua con chi eri? Ti si vede pure il capezzolo. Scusi che guarda, lei sono foto privata. Amore, ti prego, non ho i soldi, ok? Non ho i soldi per raggiungerti a Roma, non ho i soldi per il treno. Richiamami, amore, ciao, 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 ciao. Biglietto, prego. Biglietto? Lei che è il controllore? Capotreno. Sembra molto elegante per essere il capotreno. E la nuova divisa. E il cappello? Ecco il cappello. Facciamo la multa o scendo? Per carità, io lo so che ho fatto una cazzata a tradirla. Infatti ho solo due scopi nella vita. Uno, fare soldi e rimettermi in sesto. E due, scoprire quel pezzo di merda che ha fatto la spia. Trovalo. E vende che è il tuo onore. La donna può essere imprudente. Ma l'uomo no. Senta, glielo avranno già detto. Ma lo sai che lei somiglia tantissimo a... Don Vito Corleone.